Il cibo sano è vivo, il cibo sano è vita. È stato questo il messaggio che ha convinto la giuria del concorso per una sana alimentazione, lanciato dalla Lilt Versilia con l'Istituto Comprensivo di Pietrasanta, a creare lo spot vincente un trio di giovanissimi studenti delle medie barsanti. La premiazione nella sala del Musa davanti a tutte le classi partecipanti, frutta, verdura e uno slogan accattivante per comunicare al pubblico il senso della campagna della Lega per la Lotto ai Tumori. All'inizio io ho avuto l'idea della stop motion, poi loro del cesto e della frutta e poi delle scritte che il cibo salutare è vita ed è anche vivo perché si muoveva la frutta. Bello anche lo slogan che avete scelto, l'avete scelto tutti insieme? Sì, l'avevamo scelto tutti insieme. Qual è la parte più bella di questa esperienza secondo te? Secondo me è la cosa di aver capito cosa si deve mangiare e cosa non si deve mangiare. Consegnati premi a tutti i partecipanti, buoni spesa per materiale scolastico, tante idee e buona fantasia anche per gli altri ragazzi in concorso. I ragazzi mi sembra che abbiano recepito il tutto perché sono stati veramente bravissimi, ho visto certi lavori che da rimanere a bocca aperta veramente. Abbiamo cercato di coinvolgere i ragazzi, sensibilizzarli davvero a un potenziale stile di vita che li faccia crescere come adulti consapevoli e devo dire la risposta è stata meravigliosa. Hanno creato sei lavori di gruppo, individuali, misti, davvero utili. Per i vincitori una soddisfazione in più. Lo spot primo classificato sarà infatti programmato a rotazione per le prossime settimane su Rete Versilio News per comunicare a tutti il messaggio salutista.